amici di youtube ben trovati da marco liguori è morta improvvisamente la bellissima vip in questo lutto parliamo di un fatto di cronaca avvenuto nelle scorse ore prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video in questo video con grande dispiacere comunichiamo un decesso che ha colpito nella fattispecie il mondo dei social network una morte improvvisa avvenuta su uno yacht di malta a perdere la vita è stata la bellissima influencer tunisina fara el cadi molto popolare molto seguita sui social network la donna di 36 anni tra l'altro anche architetto stava effettuando un servizio fotografico nell'isola di malta si trovava sul suo yacht come un fulminaccio al sereno molto probabilmente a seguito di un infarto fara il cadi ha perso la vita a soli 36 anni facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia della bellissima ragazza mancata troppo prematuramente il secondo me marco liguori vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che potete seguirmi anche sul canale principale marco liguori e sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti